ho saldato due fili direttamente sul condensatore di uscita sul regolatore quindi potremo applicare qui la 33 volt dall'esterno tenendo sotto controllo la corrente per vedere se abbiamo un problema a valle questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni potrete ordinare al corso di soli due dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio un grosso saluto a tutti gli elettronici entusiasti all'ascolto il tema di questa sera è molto scottante perché riguarda i guasti seriali infatti dopo diversi anni in cui ho pubblicato su youtube delle riparazioni diversi di voi si sono ritrovati esattamente nella stessa situazione quindi stesso fenomeno stesso guasto stessa riparazione e oggetto ripristinato questa secondo me è una cosa molto bella perché ci permette di capire quali sono le debolezze dei progetti volute o non volute e di replicare uno stesso schema di azione cito tre dei video principali che riguardano questo tipo di guasti e poi vi lascerò il link in descrizione il primo è quello della griglia elettrica che oramai dopo anni di conferme ha raggiunto un'attendibilità secondo me del 99,9% poi abbiamo UPS marca APC Guido G di recente ha replicato la stessa soluzione che abbiamo trovato insieme all'amico Sergio e infine il caricabatterie da camper anche questo una debolezza che si ripete molto frequentemente veniamo al video di questa sera ricevo da GVDA un multimetro formato cellulare lo avevamo già visto in qualche altro video questo è un piccolo clone quindi il video di questa sera riguarda l'unboxing di questo nuovo prodotto e l'analisi guasto e riparazione di un modello similare che pare si ripresenti con questa casistica in diverse occorrenze infatti diversi di voi mi hanno scritto che ricevendo l'oggetto alla prima accensione ha dato questo problema poi ovviamente il venditore lo cambia e non c'è nessun problema però è interessante andare a vedere di cosa si tratta questo oggetto guasto l'aveva spedito Pierluigi M e quindi buona visione ecco il multimetro GVDA GD119B molto simile al GD128 che avevamo visto nel mio video 694 anche questo si presenta con questo astuccio è un multimetro formato cellulare quindi pensato per essere facilmente trasportabile è dichiarato a vero valore efficace True RMS 6000 count nello scomparto di sinistra abbiamo la termocoppia per la misura temperatura e i puntali andiamo ad accendere lo strumento ho messo a confronto il modello GD119 con il modello GD128 che vedremo dopo in riparazione GVDA ha cercato di creare uno strumento più piccolo con performance leggermente inferiori infatti qua abbiamo 6000 count contro i 9999 count a livello di funzioni disponibili sono equivalenti quindi anche questo ha la funzione NCV la selezione auto delle misure abbiamo come sempre ometro, capacimetro, voltmetro, test aggiunzioni, temperatura e amperometro e voltmetro sia alternata che continua le funzioni si abilitano direttamente con questi due tasti e poi abbiamo l'indicazione luminosa delle boccole da utilizzare funzione per funzione cosa che avevamo anche nel vecchio solo che era indicata direttamente con i led invece qua abbiamo le boccole che sono contornate dalla luce anche questo modello ha la funzione NCV per l'identificazione delle alte tensioni infatti se lo avvicino a una presa della 230 con i led dà evidenza della tensione elevata vi lascio in descrizione le caratteristiche e le tolleranze dichiarate dal costruttore veniamo ora alla nostra indagine su questo multimetro GD128 il problema è che non si accende nonostante ci sia un assorbimento di ben 200 mAh riscontrato da Pierluigi dal nostro multimetro questo tipo di problemino lo ho già letto diverse volte anche sul forum questo ci dà l'occasione di aprire questo oggetto vedere com'è fatto e indagare il problema e tentare la riparazione rimuoviamo la vite solleviamo il coperchio l'oggetto si alimenta con tre pile mini stilo forniamo l'alimentazione con un alimentatore da banco ho collegato due pezzettini di filo rigido agli estremi delle batterie supponendo che siano collegate in serie eventualmente poi dopo lo verifichiamo quindi forniamo alimentazione direttamente su questi terminali visto che siamo in casa GVDA utilizziamo l'alimentatore GVDA visto nel video 660 inseriamo l'alimentazione in corrente quindi il ledros acceso la sblocchiamo leggermente quindi dando la possibilità di fare una piccola corrente e saliamo lentamente con la tensione teniamo sotto controllo la corrente assorbita e saliamo in tensione piano piano qua siamo a 1V 3V 25mA nonostante sia tutto spento attenzione 2V 35mA arriveremo a 4V e mezzo che è la serie delle tre pile da 1,5 vedete che qua siamo a 3V poco più di 50mA andiamo ancora un pochino su 4V circa 4,5V sì abbiamo 80mA e non ho spinto nessun bottone in questa situazione spingo il bottone auto non cambia assolutamente nulla direi che è proprio insensibile a tutti i tasti e abbiamo questo assorbimento residuo quindi questo è il tipo di fenomeno che si manifesta quindi una potenza assorbita di 360mW a fronte di nessun comando e nessuna attività visibile vediamo come è fatto questo oggetto quindi andiamo a svitare queste 4 viti poste sulla parte posteriore solleviamo il coperchio come prima cosa notiamo i due contatti poste all'estremità del pacco batterie e quindi questo conferma appunto la serie delle batterie quindi viene prelevata la 4,5V fra questi due terminali vediamo come è organizzato questo multimetro in formato compatto riconosciamo i fusibili di protezione ceramici hanno il loro supporto e non sono direttamente saldati come avviene in altri multimetri economici qua un termistore PTC quindi protezione in ingresso resistenze in ingresso di protezione sempre qua sono presenti le due pad di contatto alla batteria notiamo un relais che serve per commutare direi le diverse funzioni visto che non abbiamo un commutatore rotativo qui abbiamo un chip lego sdic 2502 effettivamente dovrebbe essere un micro di tipo risk quest'altro chip un tm1729 per la gestione dell'lcd questo è il led che si trova poi sulla parte posteriore buzzer e poco altro per comodità ho saldato direttamente i fili sulle pad della batteria così lo potremo alimentare facilmente misuriamo la tensione in ingresso stiamo fornendo 4.48 vediamo anche questa tensione fra questi due terminali rosso e nero strano, meno 1.8 e boh mi sarei aspettato una tensione positiva perché abbiamo meno nero e rosso più ho disaldato questo filo nero vediamo cosa cambia a livello di assorbimento inseriamo il morsetto una corrente leggermente superiore anche questa cosa qua è un po' strana ho interrotto anche il filo rosso assorbimento sempre circa di 96-97 mA qua in serigrafia abbiamo indicato BL più BL meno direi che potrebbe essere il backlight quindi la retroilluminazione seguendo le piste dalle piazzole vediamo che vanno direttamente su questi connettorini che tengono attaccate queste due schede quindi direi che una prima verifica potrebbe essere rimuovere queste piccole viti e togliere la scheda principale ho rimosso le viti anche nella parte inferiore riusciamo a ruotare la scheda ecco il nostro LCD e quindi confermiamo effettivamente che questi due fili sono per la retroilluminazione da questa parte abbiamo i bottoni tattili che corrispondono alla posizione degli interruttori sul frontale e notiamo le piste con tutte le pad per la zebra strip che vanno direttamente qui e trasferiscono i comandi al piccolo schermo LCD qui sul lato riconosciamo lo shunt questa barrettina metallica posta direttamente vicino all'ingresso le due schede sono saldate insieme direttamente qua su questi terminali ora andiamo a fare una bella pulizia del circuito stampato notiamo qualche traccia probabilmente di flussante o anche di umidità in certi casi, in certi punti vediamo sulla parte specialmente qua dei connettori che trasferiscono i segnali e l'alimentazione verso la parte di elaborazione la prima cosa da fare direi che è controllare le alimentazioni troviamo subito qua questo U2 che dovrebbe essere secondo me un regolatore di tensione 6208A 2043-33 prendiamo buono il 6208 questo è di un altro costruttore un ME ma direi che sono equivalenti osserviamo che i part number il 33 sta a indicare la 3 e 3 volt andiamo a misurare le tensioni pin 1 dovrebbe essere il ground allora il pin 3 dovrebbe essere l'uscita 0.48 vediamo in ingresso cosa abbiamo 4.4 quindi a fronte di 4.4 sta fornendo 0.48 ora potrebbe essere il regolatore o potrebbe anche essere che abbiamo un sovrassorbimento nel carico a valle che lo fa sedere beh per scrupolo lo andiamo a disaldare ho rimosso il regolatore andiamo a verificare nuovamente l'assorbimento in corrente come potevamo sospettare abbiamo 0 infatti abbiamo tolto un elemento serie che sull'alimentazione quindi ci sta ho saldato due fili direttamente sul condensatore di uscita sul regolatore quindi potremmo applicare qui la 3 3 volt dall'esterno tenendo sotto controllo la corrente per vedere se abbiamo un problema a valle fornisco 3 volte 3 e non ho assorbimento questa è un'ottima notizia significa che non ho sovraccarico in uscita proviamo in queste condizioni a spingere il bottone di accensione con le mani della fata spingo attenzione blink sì sì è partito adesso non so se funziona ma sicuramente ha dato segni di vita quindi adesso dobbiamo sostituire il regolatore devo sostituire il regolatore originale questo 6208 che è in package SOT23 e ha un pinout che è ground input output io in casa ho un L1117 regolatore 3 3 volt solo che è in package SOT223 quindi ben più grande ed inoltre abbiamo un pinout invertito per quello che riguarda ingresso uscita infatti abbiamo ground uscita ingresso quindi adesso dovrò fare un adattamento di questo sul circuito stampato in modo da mapparlo sulle pad di quest'altro ho tagliato il tab finale in modo che stia in questa zona ho collegato il ground qua abbiamo l'uscita e qua abbiamo l'ingresso prelevata dalla pad facciamo il test fornisco la 4 volte e mezzo sempre dai terminali della batteria led accesi non so se questo sia normale però è alimentato verifichiamo la tensione che si legge in uscita dal regolatore ci mettiamo direttamente sul condensatore di uscita 3.29 ok direi che ci siamo ora rimonto il circuito stampato all'interno del contenitore e colleghiamo l'LCD per il corretto montaggio è indispensabile che la zebra strip sia perfettamente a contatto con le pad sotto poi qui le viti dovranno essere tirate in maniera uniforme in modo che il contatto sia perfetto altrimenti l'LCD non riuscirà a mostrare bene caratteri ragazzi è giunto il momento di fare il test finale incrociamo le dita diamo tensione 1,2,3 oh 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 grande sì 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 ci siamo anche l'LCD è stato fissato bene vediamo adesso agisco sul bottone di power off si spegne perfetto adesso lo riaccendiamo eccolo qua perfetto l'abbia recuperato acpicchia per un regolatore da 3,3 volt pensa a te ho fissato anche le viti del circuito stampato sul mobile la modifica direi che va bene vedete ci sta proprio a raso quindi è di misura eventualmente si possono bloccare queste filature con un piccolo punto colla ma direi che non ci sono problemi ho rimosso i fili rigidi ho stretto tutte le viti ci sono tutte ecco sulle viti attenzione perché gli inserti sono in plastica quindi conviene prima di avvitare conviene fare magari un giro in senso anti-orario per sentire bene il filetto e poi avvitare altrimenti si rischiano di rovinare facciamo un rapido test finale accensione ok auto vediamo le diverse funzioni quindi qua abbiamo tensioni continue ometro tester di continuità test giunzioni condensatori millivolt frequenza e spartizione temperatura funzione ncv amperometro qua segnala effettivamente che bisogna ricordarsi di mettere i puntali nelle boccole giuste e lo segnala anche con questa luce rossa testa ncv ok rilevo giustamente la 230 accendiamo il led ok con i puntali inseriti modalità auto tocco ok e con questo termina la puntata mista con la recensione del nuovo modello GD119 e riparazione del modello GD128 avevamo un guasto alla nascita perché non è mai andato però con semplicemente la sostituzione di un regolatore di tensione lo abbiamo ripristinato mi auguro che anche nel vostro caso si tratti dello stesso regolatore fatemelo sapere nei commenti eventualmente io vi ringrazio per aver visto questo video come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.